Allora, ascolta, dobbiamo allenarci e le possibilità sono due. Uno, ci alleniamo nella stanza dello spirito del tempo. O due, preferiresti forse guardare teenager che si fingono cantanti neomelodici napoletani? A me mi piace a Nutella, c'è la tua panna, e mi rendi di quantità. Sì. 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 Merda, 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 merda. Sì. Sì. Ciao, stronzi. Eh, dove che era? Ah, giusto. La squadra. Abbiamo... Carl. Carl Carlos Dantler Piedi al 32 Zefforo al 34 Sì Giustamente Hentai al 30 E Aspetta, aspetta, aspetta Ultimo membro Brillo Sì, è un Gloom Shiny Non so come cazzo L'abbia trovato questo idiota Ma forse è l'unico Shiny che ho trovato Anch'io vado a trovare gli Abrashiny In Snakewood Senti un po' Questo piccio è Shiny Oh, va che cutie Poi vabbè c'è Dandy Kawaii Tornazzo il cane Ascolta, andiamo a Cercare quei tipi Come si chiamano Quelli con il nasone, dai Ho tanto paura nel corpo Che cos'è quella casa? Perché c'è un tetto Sopra un tetto Andiamo un po' Che cos'è Quello lì sopra si sta guardando male Oh, eravamo qua In una zona Ehi tu Che cosa pensi di fare? Non puoi entrare qui È proprietà privata Swellow si gonfia Palestrato Che disdetta Cos'è sto coso? Ho appena notato che il braccio di quello sprite È tipo Zoom punch Ma tu sei alb Ora è giunta la tua ora 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 Siamo qui di guardia Vattene Destra o sinistra? Sì L'opzione centrale non esiste Sì Dai Seriamente Cosa scegliamo? Destra o sinistra? Seriamente Oddio Destra o sinistra? Sì Ok Ho paura Alpu salvaci Ma praticamente Questo posto è sospeso nel vuoto A quanto pare Oddio Questo qua è diverso Ha gli occhiali sberlucicosi Che ci fanno i ragazzini qui? Senti io ti voglio far evolvere però Va bene Ok Al maestro Interessano gli scienziati di questo laboratorio Per reclutarli come scagnozzi Questo qua è seduto invece Andiamo a metterlo dall'altra parte Hai proprio Avrei proprio un bellissimo sprite Spe Spe Ok 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 Qui È così Qui È uguale Se esco però Mindfuck Ma esco da sinistra Andiamo su L'erba Eh beh E questa sarebbe una serra? No è un erk Non hai giocato a Fire Emblem 7 Non puoi capire Beccans impaurito Che cosa? Ah è perché è prepotente È prepotente Intimidate L'ha tradotto con Impaurito Impaurito Geniale Che cazzo è quel coso? È un cane È un cosa? È un cane Non può essere un cane È giallo È un cane patata giallo E è un cane patata giallo Andiamo da questo cane giallo Che ha 100 PS Monferno con 100 PS non si può vedere Perché è Magmar In realtà sarebbe Rapidasho Magmar Rapidasho e poi Magmar che ha pure meno PS se non sbaglio Ora che lo guardo meglio Eh Non ti ricorda Neocortex? Ma infatti è Neocortex Bene 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 Così Tu sei Halp Scusa per il modo che ho usato per portarti qui ma Una lettera d'invito sarebbe Rimpin Aspetta che ando sul sito della Crusca e guardo se esistano robe di oggi Ecco grazie Mi stai facendo un piacere Una lettera d'invito sarebbe Rimpinzanato Che cavolo significa rimpinzanato Aiutami Halp Cosa non vuoi aiutarmi bene? Dai parte così No vabbè 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 Sì No 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 E la N è anche al contrario Vai così Dottor Cortex vuole combattere Manda Porigon 2 Nonno Papero Vedi che ci sono giù Pokécraft e Seventin Che si rivolta nella tomba per nonno Papero Non ho capito No mi voleva affinché sconfiggessi i suoi Pokémon Ah ok Sono troppo malvagi sui Pokémon Gli devo dare una lezione Arga Allora non vuoi davvero aiutarmi nel mio piano Arrrr Arrrr Pensa che avrai soldi a palate Cos'è tutta questa ostinazione? Bah Ci rivedremo presto Ancora prima di quanto pensi Ma Ancora Che c'è Te l'avevo detto Che ci saremmo rivisti presto no? Questa non è una domanda Ma un'opposizione No 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 Aspetta 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 Questa non è una domanda Ma un'opposizione Objection Objection Vieni a domare i leggendari per me Che c'è Che c'è Che c'è Mi vuoti for me Chi è che Non era De Monbelia Alvero No Addirittura Ti vuole Minacciare con Con un tumore Mi minaccia Ah fine Era mio ultimo pokemon No Oh no Accidenti Alpe sei proprio un osso duro Tieni questo regalo da parte mia Riceve e volo Non riuscirei a comprarmi così Arr Tu 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 devi aiutarmi a domare i leggendari Le leggendari Hai capito bene Alpe Voglio prelevare il loro DNA Per creare un super leggendario Sei un pazzo Pensaci bene Alpe Questo è tutto per ora Ti spiegherò dopo Arrivederci Ciao Yes Chiudi gli occhi Dai che vedici Beh Oddio Vabbè dai Vabbè no Dovresti vedere la grotta di Verdinia Qui a destra Gulp Hai ragione Ha testata Sta attento Testata Ebora E vento gelato Ma perché Perché è stupido il creatore Ubaldo È il capo palestra della regione Ubaldo Ma che tipo Oddio Sì Dai andiamo a sfidare Enova Ma qual è Avon È la versione ignorante di Avon Perché Avon è me Ancora più ignorante Ah ok Perché è già ignorante di suo Eh sì ciao Io sono Ubaldo Adesso Avon sarà Ubaldo Il capo palestra di questa città In realtà sono Questa palestra Mi l'ha affidata mio padre Non posso deluderlo Eh Luttiamo Ok Ubaldo Ma è Avon È Avon Mio Dio Ma Avon barra Dirg Ok È lui Ma 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 Mi l'ha affidata mio padre 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 Grazie.